Ed è la rappresentante della Sagra dei Fumetti e interpreta Che si mangia la Sagra dei Fumetti? Che ne so, libri di matematica o insalate? Vabbè, interpreta un grande personaggio da World of Warcraft fate forte l'applauso per Deck Knight! Grazie a tutti! Pagherete il sangue con il sangue e verrete schiacciati da coloro che già furono schiacciati dalla vostra brama di morte! Andatemi, servitori! Narrate agli umani con le vostre fauci il mio rancore per loro! Ritornate ai vostri carnemici la stessa fogli di sangue che essi vi hanno inferto! Riforgi! Esercito della morte! Grazie Sara! Avvicinati alla giuria! Grazie! 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 Grazie!